Le dico che ho 18 anni. Vuoi che non sappia quanti anni hai? Tu sei il figlio della Sandra che si è sposata con Gino, il figlio di Anderlini che aveva la merceria di sacerno. Sei nato prematuro di due mesi e eri più di là che di qua. C'eravamo anche noi al tuo battesimo? Sì, ma adesso ho compiuto 18 anni. Da poco, ma li ho compiuti. Fuori. Ma le posso dimostrare? Fuori! Fuori! Ma signore mie, non è che io possa far chiudere un cinematografico perché non vi piacciono i film che passano. Anche a me non piace Bambi, però non l'ho fatto chiudere il cinema quando l'hanno dato. Il discorso è bel diverso, signor sindaco. Qui non si sta parlando di film belli o di film brutti. Qui si parla di film immorali che rovinano il buon nome del paese. I Martini hanno portato la lussuria nelle nostre case. Ma cosa vuole che abbiano portato in casa i Martini? Al limite saranno stati i vostri mariti andarselo a prendere il cinema. Ma se il cinema non ci fosse? Ma che discorso è questo, signora? Allora, se Adamo non avesse mangiato la mele, non staremmo qui a parlarne. Non sarà che la colpa non sia dei mariti, ma delle mogli? A presto. Grazie a tutti